Il bancone in tilt, oggi giochiamo a Coffee Rush Ciao a tutti, giocatori, giocatrici e sempreci curiosi Noi siamo i Giullari come ogni lunedì e mercoledì, siamo qui con un nuovo gameplay Al solito vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella così da non perdervi nessuno dei nostri video Né delle nostre sfide, né delle nostre recensioni del venerdì nei diari E se volete qua sotto in descrizione trovate anche il link alla nostra pagina Patreon Così ci potete supportare, avere un sacco di anteprime e di esclusive solo per voi E oggi il nostro tavolo ArtsLinea accoglie due caffè Perché noi ci ritroviamo su questa via dove ci sono tanti piccoli caffè Che vogliono aggiudicarsi migliori clienti Perché siamo nell'era anche dei social E quindi è molto più probabile che le recensioni negative minino molto il nostro piccolo caffè Quindi faremo di tutto per avere delle recensioni positive Ma se gli ordini si accumulano e i clienti sono tanti Arriveremo proprio ad andare in tilt e avere un Rush Coffee Dovremmo andare di corsa perché i clienti saranno via via sempre di più E come vedete noi abbiamo già tutto quanto apparecchiato Ogni giocatore avrà il proprio caffè con le quattro postazioni Con gli ordini che scorreranno verso il basso Che dovremo cercare di evadere Mettendo all'interno delle bellissime tazzine incluse nel gioco Gli ingredienti giusti della ricetta Della tipologia di caffè che vogliono i giocatori Siccome giocheremo in due ci sono solo due piccole differenze La prima è che entrambi i giocatori avranno due camerieri All'interno del mercato centrale Comunque della plancia centrale Da cui recuperiamo gli ingredienti In tre e in quattro invece ne avreste soltanto uno Li andiamo a posizionare dal primo giocatore Che sarò io che ho il dischettino Che indica che il nostro bar è aperto Partendo da Vale Vale ne piazzerà uno dove vuole Per prendere immediatamente quell'ingrediente E metterlo in una delle sue tazzine Io poi ne piazzerò un altro Ma non sulla casella dove si è appena messa Vale Io mi metto qua a prendere Bellissimo A prendere un cioccolato E lo metto anch'io in una tazzina Vale ora piazza un altro suomino Su una casella libera E io poi piazzerò il mio ultimo Vale prende dell'acqua Ci sta E io prendo Guarda io mi metto qua Mi metto qua vicino E prendo del ghiaccio Che scelgo di metterlo nella stessa tazzina Della cioccolata Potremmo anche metterlo in una diversa Comunque stando giocando in due Dopodiché Iniziamo a giocare Il primo giocatore ha già tre ordini Davanti a sé Due nella riga uno Uno nella riga due E al mio turno io cosa faccio La prima cosa che posso fare è Attivare dei miei poteri Però al momento non lo posso fare Perché avrei bisogno di avere Già delle recensioni positive Dei punti Che al momento non abbiamo Allora scelgo uno dei miei due omini E lo muovo Stai se giocando in tre e quattro Non avete solo uno E muovete quello Quando muovo un omino Lo devo muovere da uno A tre passi Posso passare su caselle Occupate da altri Anche dal mio Ma non posso fermarmi ci E muovendomi raccolgo gli ingredienti Che vedo lungo la via Allora io farò così Guarda ma io tre passi li faccio Perché faccio con lui Faccio latte Ghiaccio Latte Quindi prendo due gocciine di latte Una di ghiaccio Adesso seconda fase Dopo aver mosso Distribuisco questi ingredienti Nelle tazzine come voglio Non sono obbligato a metterli tutti Volessi Posso anche buttarne via qualcuno Di quelli che ho Eventualmente appena raccolto Ma io metto un latte qua E un latte un ghiaccio Quali posso distribuire Nelle tazzine come voglio Però una volta che ho l'ingrediente In una tazzina Non lo posso più togliere Quello che posso fare in questa fase È dire Vabbè questa tazzina la svuoto Butto via tutto E ricomincio a preparare Qualcos'altro Si non puoi spostarli O butti tutto O ti tieni Non puoi riorganizzarli Ultima fase Vedo se ho preparato degli ordini Quindi caffè pronto Vado a mettere la tazzina Sopra l'ordine che ho risolto E caffè servito Dimostro di averlo fatto Nella vattispecie Questa cioccolata fredda Con latte Come state vedendo Mi dà a destra I tre ingredienti Di cui ho bisogno Ovvero cioccolato Latte e ghiaccio Nella tazzina Che ho appena completato Ci sono cioccolato Latte e ghiaccio Ebbene si Eccoli qua Così ammirate anche Un attimo I carinissimi ingredienti Ci sono Questi li posso andare A rimettere disponibili Nella riserva Se per caso Mentre vi muovete Gli ingredienti Del tipo che dovreste prendere Non ci sono Va attaccata Lo sbaragnao Ci si attacca E questa l'ho fatta Questa ricetta Quindi la giro La metto nella parte Alta del mio tabellone Indicare che questa È una recensione positiva E un punto vittoria Ho finito il mio turno Posso anche consegnare Più di un caffè Ma ricordatevi Siete limitati a tre Perché tre sono le tazzine Che avete Alla fine del mio turno Tutti gli ordini Che non ho evaso Scendono di uno spazio E se fossero già stati Nella riga 4 Niente Erano clienti Che se ne andavano via Infuriati Lasciandoci recensioni negative E Solo nel gioco 2 Dopo che tutte quante scendono Mi prendo Una nuova ricetta Ad andare a mettere Nell'1 Attenzione però C'è ancora la fase Dei troppi ordini Quando un giocatore Completa un ordine E lo consegna Come nel mio caso Tutti gli altri giocatori In 4 giocatori Solo quello Da destra Da sinistra Ma in 2 E ovviamente L'altro giocatore Pesca altrettante carte Ordine Che gli vanno Nella prima riga Per ogni carta Che io completo Nel mio turno Sono nuovi ordini Che si aggiungono A Vale E ora tocca a Vale Allora tocca a me Quindi Il caramello Non è cioccolata Un vapore Ma perché Un latte Ogni notte inizia con te Un latte che è qua Opla Ovviamente Essendoci il caramello Tra gli ingredienti Canterò Caramello E un caffè Di chi è Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini Baby K Nonno Baby K forse non c'è Allora Il mio vapore Lo metto qua Quello che ha fatto Anche il film Rocco Ant Mi sembra che sia Salutiamo Rocco Ant Ordine pronto Vediamo un po' Ordine pronto E ordine consegnato Con vapore Acqua E menta Vale Fa questa tisana E vi facciamo vedere Che questo te nero È una ricetta speciale Quella banda Gioalla in alto Dice che questa Essendo una ricetta speciale Vale Guadagna Un segnalino Fretta Che si prende E si mette lì Questa è una ricetta Completata Un punto Quindi Io ne pesco una Da aggiungermi qua E Vale Scorrono giù E se ne prende un altro Cosa serve la fretta Poi lo vediamo Non è cattiva consigliera Però in questo gioco No In questo gioco Per niente Tocca a me Muovere uno dei miei due A fare cose Allora Io potrei fare Latte Vedo Ah Queste scatoline qua Sono nel gioco Latte Latte Dai io faccio Latte Menta E vapore Quindi Latte Menta E vapore Non vi abbiamo detto Quando ci muoviamo Ci muoviamo solo ortogonalmente Non l'abbiamo specificato No Vi chiediamo scusa Ma è importante Quindi io metto la mentuccia qua Il latte e il vapore Li metto entrambi qua Ordine pronto Ordine completato Il tè freddo Con latte Quindi c'è la menta C'è il latte E c'è la glass Il ghiaccio E ho fatto anche questa Vale ne peschi una Queste scendono Questa arriva già I tre E io me ne pesco una Perché è la fine del mio turno Allora Io verrò a prendermi Del caffè Ok Che essendo In caffetteria è utile Del vapore Ok E del ghiaccio E adesso vedo come metterli Ok Allora qua ho già del caffè Del latte E ci posso mettere un vapore Ok Quindi Vale fa quella lì E poi qua con caffè e ghiaccio Ci stanno ben assieme Ups Ok Ok quindi Ordine pronto Ordine consegnato E ordine consegnato Faccio un bel caffè viennese Facciamo anche ci fidiamo Mi metto un cano Un marocchino Ma io vi faccio sempre vedere Io vi faccio vedere Qui inizia già a essere triste Ti sei preso la carta? Sì sì Purtroppo sì È un caramel macchiato Le ricette Sia che abbiano La richiesta di tre Quattro O magari solo due ingredienti Forniscono tutte quante A prescindere Un punto Una recensione positiva È la mia volta Avevamo detto Che io volevo fare Allora Mi serve Dai Facciamo Muovo lui Prendo del latte Prendo del cioccolato Prendo del ghiaccio Latte cioccolato Ghiaccio Ghiaccio Che guarda Sono quelle che mi servono Per fare questa cioccolata Fredda con latte Le metto tutte Nella stessa tazzina Ah ordine pronto Ordine consegnato Da bene È bello Mettere le cose Nella tazzina Sì va bene Non faccio più veloce così Quindi ho consegnato Questa cioccolata fredda Con latte Uno Queste scendono tutte Qua E inizia a diventare Inizia a diventare interessante Antipatica la cosa Ma 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 Allora Io ora ho tre Recensioni positive Allora Io vengo a prendermi Acqua E va bene Poi vengo a prendermi Del Caffè Non so se l'abbiamo detto Ma dobbiamo sempre Muovere lo stesso Sì 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 Anche avendo due omini Ne scegliamo uno Muoviamo quello Solo ortogonale Possiamo passare Dove è occupato Ma Non possiamo fermarmi Torno indietro E si può fare Esatto Però si può fare Nel movimento Si può fare avanti e indietro Si può ripassare Su caselle Su cui siamo già passati Si può anche terminare Il nostro movimento Sulla casella Da cui siamo partiti L'importante è che Dobbiamo fare Almeno un passo Massimo tre passi Poi ci saranno Delle eccezioni Che adesso Pian piano vediamo Perché man mano Che lavoriamo Diventiamo più abili E quindi Ci sta Quindi ordine pronto Per il caffè freddo Eccola Eccola che arriva E ordine consegnato Perfetto E quindi arriva un te freddo Con latte Io cosa voglio fare All'inizio del mio turno Parlavamo che La primissima cosa Che posso fare È attivare Un'abilità speciale Io avendo tre recensioni positive Avendo consegnato tre ordini Sono tre punti Ma io posso rinunciare A tre dei miei punti Per scartare Quindi tre recensioni positive Posso anche farne più di una Contemporaneamente Le avessi Salutiamo questi tre punti Ma attivo una Delle mie abilità speciali Ogni giocatore parte Con le stesse Quattro abilità speciali E puoi sceglierne una Da attivare Io sceglierò Di attivare questa qua Come vedete L'abilità speciale Una volta girata Sotto dice Due pollici in su Ovvero due recensioni positive Ho trasformato Tre punti in due punti Quindi di fatto Ho rinunciato uno Ma attivo questa abilità Che mi dice che Raccolgo doppio Gli ingredienti rari Quelli con le barrette dorate Quando ci passo sopra E io muovo lui E prendo Ghiaccio Latte Due Cioccolato Che il caramello Non è cioccolato Dolce Un po' salato Tu Caramello al cioccolato E vado a riempire Le mie cose Allora Li ho Latte Vapore E cioccolato Queste tre Invece Le vengo Ghiaccio Latte E cioccolato Le vengo a mettere qua Ordine pronto Ordine Consignato Ho fatto una cioccolata Con latte Vale Puoi pescarti Posso Devo Devi pescarti Puoi nel senso Sei calorosamente invitata E io questa qua Attenzione Ce l'ho vicino All'attenzione Vuol dire che Se non la consegno In questo turno Beccherò una recensione Negativa E beccare Le recensioni negative È brutto Oltre a toglierci i punti Potrebbe anche Determinare la fine Della partita Che può avvenire In due modi O finisce il mazzo Del caffè Oppure un giocatore Prende la sua quinta Cosa negativa Allora Anch'io Ok Anch'io Vale Si attiva un bonus Fammi pensare Quale Fammi pensare Fammi Io inizierò Ad attivarmi la diagonale Ok quindi Vale Adesso può anche Muoversi in diagonale Non solo più Ortogonalmente Quindi si muove In modo più agile Nella dispensa Allora io vengo a prendermi Del ghiaccio Ok Uno Vengo a prendermi Del latte Due Vengo a prendermi Della cioccolata Tre E poi uso La mia fretta Ok Per fare un passo in più Perché Vale Non può fermarsi qua L'esatto L'esatto La fretta Cosa serve Ogni token Fretta Che spendiamo Ci permette Di fare Un ulteriore passo Possiamo anche Spenderne più di uno Mi muove in diagonale Per prendermi Del caffè Perfetto Allora Andiamo a vedere Quindi io metto Cioccolato Stava per sbagliare L'ordine E ghiaccio Per fare l'ordine pronto E caffè Me lo vengo a mettere qua Ordine pronto Ordine consegnato Tutte le volte che aggiungete Prendete nuove carte O per i troppi ordini altrui Oppure perché in due giocatori La fine del vostro turno Vanno comunque nella riga uno Poi abbassa Hai preso tu Sì l'ho preso L'ho preso Abbasso Abbasso E mi arriva Un telerde Allora È la mia volta Aiuto Allora Allora Io devo prendere un caffè Per completare questo Il problema è che Mentre vado a prendermi Quel caffè Prendiamo qualcosa Che mi possa servire Tipo questo E che io raccolgo Doppie Le robe special Quindi potrei anche Andarmi già a raccogliere Due Due menta Per queste due qua Però vuol dire Che rinuncio a queste Oppure Mi vengo a prendere Quest'acqua Però passerei a prendere Del vapore Che mi serve Fino a una certa Quindi Potrei fare Ti sembra veramente Chi di voi ha lavorato Al bar dietro a un bancone Sembra veramente Quando si accumulano I vassoi Le tazzine Lì davanti Con i foglietti Le tazzine Che non mi servono Però che non sai cosa fare Prima E cerchi di ottimizzare Il tutto E che non mi serve Però poi sbagli E non sai cosa fare prima E che però non mi servono Questo lo si sente E che però Prendo roba che non mi serve Però vabbè Prendiamo Vapore Caffè E non so se prendermi Vapore Caffè E due acque Anche se di fatto Non mi servono Però Mi sa che una Magari la butterò via Allora Io metto Allora Un caffè qua Così ordine pronto Poi ho Un'acqua La mettiamo lì E un vapore Lo mettiamo qui E quest'acqua La butto Perché non mi serviva Ordine pronto Ordine consegnato Che mi dà anche Una fretta Per fortuna Per fortuna Un espresso doppio Sono pieno di espressi doppi Perché dicevo due acque Perché l'acqua è speciale E io c'ho il bonus Che le speciali Le consegno Facili Quindi queste vengono qua Queste vengono qua Queste vengono qua Non riesco Mamma Mamma Io Prenderò Del Mamma mia Mi manca uno Per sbloccare Allora E che non riesco Allora Vapore Vapore Che quindi Ordine pronto Poi Ho già dell'acqua Verrò a prendermi Del ghiaccio E verrò a prendermi Del Caffè Non posso sbloccarmi Quindi Allora Acqua Con ghiaccio Non riesco a farla Tutte e due Mi becco una prima recensione Negativa E il caffè Me lo metto Qua Ordine pronto Per un espresso doppio E lo consegniamo Addio proprio La Si può anche completare Più di un ordine Contemporaneamente Anzi Anzi Si fa Sarebbe Opportun E consigliato E' un po' difficile In questo frangente Allora Se io rinuncio Io rinuncio a questo No Io rinuncio a questo Ormai Diciamo Quindi allora Io muovo lui E prendo Ghiaccio Latte Caffè E poi uso la fretta Per prendere ancora due menta Due menta Due menta Due menta E la fretta L'ho spesa Allora Quindi Ghiaccio Caffè Li metto qua con l'acqua Così faccio questo americano freddo Quel vapore Vedete Ci rinuncio Allora Questa la suoto Butto via quel vapore Che avevo messo così In una tazzina E' evaporato Ovviamente Metto una menta qua Con il latte L'altra menta La mettiamola là Ordine pronto Ordine consegnato Allora Quindi Questa mi viene qua E vale peschi una Perché io ho consegnato Un ordine E quest'altra qua Come vedete Mi viene via Adesso scendono tutte E la quattro Quella che si trova in fila 4 Un cliente Che se ne va via In cacchiato Questa mi diventa Una recensione negativa La mia prima recensione negativa Ogni recensione negativa Che prendete Però vi prendete Un segnalino freddo Avrete Dai dai Su forza Non possiamo Farci insultare così Fosse stata la mia Quinta recensione negativa Finiva la partita Cioè si finiva il giro in corso Ed era finita la partita Comunque scendono E ne mettiamo una Prego Vale Anche Vale Ora si becchiara Una recensione negativa Spero Ti sei messo proprio in mezzo Alle scatole Se no Vale Mi da due Non posso farlo lì Sì Allora io faccio Puoi andare in diagonale Vale Puoi andare in diagonale E ti sei fermato Un po' in mezzo alle scatole E meno male Quindi questa è andata persa A me serve Però posso fare Troppa roba di nuovo adesso Posso fare Ghiaccio Due ghiaccio Caramello Che non è cioccolata Ghiaccio e caramello Lo dirò mille volte E caffè Ok Quindi qua metto Caramello e ghiaccio Ok Qua Con ghiaccio Qua Ti serviva la menta Ti serviva la menta Ma tu gentilmente ti sei proprio Però però va bene Iniziamo a mettere un caffè qua Comunque ordine pronto Ok Consegniamo un caffè freddo Al caramello Che deve essere buonissimo Un caffè al caramello Poi Qua 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 Ho consegnato il caffè freddo Al caramello Questa mi diventa Una recensione negativa Mi prendo una fretta Abbasso abbasso E tu devi pescare Già fatto E tu te ne aggiungerai Poi una Io me ne aggiungo Io prima di iniziare Io mi converto di nuovo Tre recensioni positive In un altro potere Nel primo Questo qua mi dice Che ogni volta Che passo E ricordate non potete fermarvi Che passate su una casella occupata L'ingrediente di quella casella Lo prendete doppio Anche in due giocatori Anche se occupata Dall'altro mio omino E i bonus Sono cumulativi Vuol dire che se io passo Su una casella speciale Occupata Grazie ai miei due bonus Lo prendo quadruplicato Poi magari non vi servirà Però lo prendete Perché io voglio fare questo Allora A me qua serve Del ghiaccio Allora facciamo così Ho anche una fretta Allora Latte Due ghiaccio Perché è occupata Due ghiaccio Vapore Uno Due E tre Ok Adesso Capiamo cosa Allora Latte e vapore Li metto qua Un ghiaccio Lo metto qua Quest'altro ghiaccio Per ora Appoggiamolo qua E allora Ordine pronto Ordine pronto Faccio due ordini Ordini consegnati Menta Latte e vapore Un tè con latte Menta Latte e ghiaccio Un tè freddo Con latte E quindi Vale si aggiunge Due carte Alla prima riga E ricordate che Voi avete tre tazzine Se vi trovate Con quattro carte In una riga Vuol dire che una È andata a sbaragnao Due sono fatte Questa però Siende Mi diventa Una reccia negativa Che mi becco E tac E tac E tac E tac Prego Vale Ok Allora Io faccio Devo fare questa Tassativamente Non posso Per anche io Sbloccarmi Che se c'è qualcuno In mezzo alle scatole Prendo qualcosa Quindi io vengo A prendermi Una menta Poi vengo A prendermi Due Vapori Ok Vapori A me serve Poi vengo A prendermi Del 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 Cioccolato Allora Se io la mente La metto Il cioccolatone Che mi serva Ma poi mi serve Il caffè Poi vengo A prendermi Del caffè Ok Perché tu puoi andare In diagonale E quindi Qui Qua ho un vapore Potrei spendermi La fretta Per fare un passo Per fare un passo Che farò E venirmi A prendere Ok Adesso Distribuisci Le cose Mettiamo Menta Qua mettiamo Questo E questo Qua mettiamo Questa Quanta roba Stai facendo Ordine pronto Ordine pronto E no E si tratta bene Se non voleva dire Averne quattro In una riga E essere sicuro Di prendersi Delle recensioni Mi prendo Una fretta Perché ho fatto Sì Brava Speciale Brava Ho fatto solo Cos'hai fatto tu prima Brava brava Tocca a me Allora io parto Con lui che mi prende Due cioccolata Grazie al mio bonus Secondo passo Un vapore Terzo passo Due caffè Perché la casella È occupata Terzo Quarto passo Pagando una fretta Perché sono partiti da Uno Due Tre Quattro Prendo un latte Distribuiamo Allora Latte Vapore Caffè Cioccolato Li metto qua Ordine Pronto E va Vabbè È pronto Insomma Hai l'ho mesciato Tutto sul bancone Questo lo metto qua Questo caffè Lo metto qua Con il ghiaccio Pronto È pronto Sporco A tazzina Accolante Ho fatto solo Questa Ma va bene Prendo anche Una fretta Ok E poi Capiremo Cosa succederà Poi nel futuro Poi nel futuro Prego Vale Io vengo a prendermi Allora Caffè E ghiaccio Due vapore Secondo me possono Saramelli Che non sono cioccolata Ricordiamolo Poi mi verrò a prendere Due latte Un vapore Mi serve Tantissima roba Mi serve Nell'acqua Due latte Un vapore Posso sbloccarmi un altro potere Volendo però Questo mi fa Ah beh però c'è una fretta Volendo posso sbloccarmi un altro potere Poi facciamo che prendo Del ghiaccio Ok Che è questo Poi del caffè E me ne prendo due Ok perché è occupata Poi con la fretta Vengo a prendermi dell'acqua Ok E adesso un attimo Perché devo vedere Vai Allora questo Lo metto qua E poi sono a posto Caffè Caffè Ma potrei anche non sbloccarmi niente Forse No Lì prendo i due latte Qua ho un vapore Con del ghiaccio Non mi serve niente Un vapore Con del ghiaccio E un vapore Potrei fare però già Vapore e ghiaccio assieme Non mi servono Quindi io tengo il vapore Tengo il ghiaccio Diciamo che ci teniamo Il ghiaccio Ok Questo lo butto Allora Io ho Ordine pronto E ordine consegnato Ordine pronto E ordine consegnato Questo qua È una specialità E mi prendo una fretta E ne faccio due Vai Due Allora Io O mi becco una recensione Non so se sbloccarmi Un altro potere Però io farei Uno Due Ne prendo i due caffè I due latte Che mi servono E poi mi manca Il caramello Però E quindi devo sbloccarmi Quello per andare In diagonale Però poi mi manca Comunque il vapore E ho la fretta Perché poi una certa dice Allora Queste che sono in quattro Dove è persa Inizio a lavorarmi gli altri Così quando arrivano giù Mi sblocco Con tre recensioni Mi sblocco Anch'io Il movimento In diagonale E ho due fretta Allora Io muovo lui E faccio Questo è occupato Prendo due latte Primo passo Secondo passo Questo è occupato Prendo due caffè Terzo passo Mi muovo in diagonale Per prendere questo Poi uso una fretta Per muovermi in diagonale E prendere due caramello Essendo speciale Io l'ho sbloccata Spendo l'ultima fretta Per fare ancora un passo E prendermi Questo vapore L'ultimo potere Che non abbiamo sbloccato È quello di prendere Doppio quelle Negli angoli E ricordatevi Che è sempre tutto Moltiplicabile Cioè quadruplicabile Se è già occupato E avete sbloccato Entrambi i cosi E allora In questo modo Io faccio Allora Questo Cioccolata Lasciamo da là Qua ho Caffè Ghiaccio Caffè Ghiaccio Latte E caramello Qua ho Caffè Caramello Latte E vapore Qua ho Cioccolato Qua ho Cioccolato Niente Cioccolato Niente Mi conviene buttare via Quello per mettere Caffè e vapore Ma forse sì Dai Butto via sta cioccolata E mi tengo sto caffè E sto vapore Due ordini Pronti I due bassi Che bomba Che bomba Che sono stato Perché mi è andata bene Che entrambi mi chiedevano Il caramello E avevano mezzi Gli ingredienti in comune Se no Col cavolo Che ce la facevo Quindi Ne faccio due Vale Ne hai aggiunte due Nella prima riga Io prendo anche due fretta Perché tra l'altro Hanno due menu speciali E boom boom Picozza Che salutiamo Perché ci guarda sempre Allora Sì Qua ce l'ho già Un gaccio Allora Tu hai solo una negativa Sì Brimbantella Ma aspetta Perché adesso Io cercherò Di farmi più furba Vapore Cercherò di farmi Un po' più furba Facendo una cosa Un po' pazza Quanta roba mi serve Cioccolato Dai Mi sblocco anch'io Quelle speciali Ok Quindi Cioccolato E le prendo due Poi Mi serve Forse Forse ce la si fa Del latte E le vengo a prendere Anche due Ok Poi Prendo Del Quindi Se io faccio Cioccolato Guardate Guardate come si divide Le risorse Prima No ma perché è un casino Per essere certa Di avere tutto Lo scivile Possibile Allora Potrebbe avere bisogno Di vapore Eh non è Quindi Poi mi vengo a prendere Cioè io qua Cioè ora Sto giro Forse forse Al prossimo Sono fregato E non so se mi conviene Lasciar perdere uno Di questi qua Ti posto Però anche lì C'ho la cioccolata Cioè queste due sono uguali Magari riesco In qualche modo Un vapore Un vapore E ad esempio Potrei Spendermi Un qualcosa Una fretta Per del ghiaccio Che è sempre utile No rimani ferma lì Perché te ne vai Cosa fai No rimani ferma Sul vapore Allora adesso Un attimo Che a me piaceva Che tu fossi sul vapore Allora io ho del ghiaccio Il caffè non c'è Cavoli Lo prendo Quindi io potrei farmi Qua mi manca Questa qua Allora Che mi chiede Del latte Del vapore Perché qua ho del caffè Del ghiaccio assieme Per esempio Chi lo sa Chi lo sa Ok Nel vapore Allora Poi qua ho del ghiaccio Ci posso mettere Già del latte Io sto pronto Faccio così Qua ci posso mettere Il ghiaccio E il cioccolato Però vuol dire Rinunciare a entrambe Queste Ok Dai io le faccio Solo una Eh E faccio la cioccolata Con il latte Questa mi viene qua E mi dà comunque Con una fretta Che mi avrebbe dato Esatto Io adesso piango E Poi dopo sono Cavolicchi Io adesso piango Perché io ora Non so cosa fare Io ora non so Ti sentivo borbottare Cercavo di concentrare Non ho idea Di cosa Come fare Delle cose Eh Quindi Quindi non lo so Quindi non ne ho idea Perché o vado a prendermi Quello Eh cos'altro Ho detto Mi mancava Latte Faccio quello lì Latte e caffè Latte e caffè Allora Allora Proviamo A fare Proviamo a contenere I danni Tipo che sì Non prenderò Degli ordini Ma nel frattempo Ne faccio degli altri Eh No Dove quindi vengo a prendere Due caramello Poi Un ghiaccio Col terzo passo Prendo due latte E con l'ultimo passo Usandomi una fretta Prendo ancora Due cioccolata Poi vedo Se voglio ancora Forse del vapore Ma non ne sono sicuro Allora Sì Un vapore Però solo Dai Un vapore Usandomi anche L'ultima fretta Perché così faccio Questa In una tazzina Questa qua Che ho Caffè e ghiaccio Non so bene perché Gli metto dentro Questo caramello E questo latte E faccio questo Ordine pronto Ordine pronto Qua mi manca il caffè Cavolino E Vabbè Buttiamo via Sta Cioccolata E ok Vai Ne ho fatti due Di cui uno è special Quindi mi prendo Una fretta Mamma Ma Mi prendo anche Una Negativa E quindi mi prendo Un'altra fretta Eh ma Potrei sbloccarmi Anche l'ultimo bonus Ma non è detto Che io lo voglio fare Poi lo scopriremo Solo vivendo Dunque Io devo Intanto divido Questa roba Vai Allora Latte e caffè Mi serve Boh E su quello E su quello Diciamo un bar Che fa il caffè Diciamo che avere il caffè Potrebbe essere interessante E caffè E via Un caffè macchiato Mi serve Si fa Poi potrebbe essere Non che poi mi arriva Un caffè macchiato Proprio Cioè caffè latte Tutto fatto Dell'acqua Che ne prendiamo Anche due No Quattro Non ne prendi Perché è speciale E perché è occupato Quindi Ne prendi quattro Poi Non me ne faccio Esatto Poi la butteremo Nel lavandino Quell'acqua Ma E poi Qua 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 non ce la farò mai Ma iniziamo a metterci Dell'acqua Vabbè Ti serve lassù L'acqua E il fatto di avere Anche solo tre tazzine Ti limita Quindi ne fai solo due O mi faccio del latte Lascio perdere l'acqua No Lascio perdere Il milione d'acqua che ho Va bene E vengo Era meglio se facciamo Un altro passo Ma Quando uno è in tilt E per forza Quindi faccio questa E non c'è una crescidra A tenerti il tempo Faccio questa Che mi da una specialità Questa è negativa No specialità È una fretta Questa è negativa Mi da un'altra fretta E questa è Ok E io le mie due Già le ho pescate Ok Poi E vale se ha Tre recensioni negative Come me Come me Quindi Penso che tu sia messa meglio In realtà Ma vabbè Pazienza Allora A me qua serve Non puoi stare queste cose Che poi me le tiri Del caffè Quindi facciamo Allora L'acqua mi serve a un tubo Il ghiaccio Mi può servire Il tubo dell'acqua Allora Io potrei passare Da lì Prendermi Due latti Senti Due latte Che mi servono lì Un vapore Che mi serve No però facciamo Devo fare anche la cioccolata Cioccolata Latte Vapore Menta Poi mi serve Il caffè Poi mi serve Il ghiaccio Dovrei Riuscire a prendere tutto Però Vai Cioccolata Ne prendo due Si Latte Ne prendo due Vapore Vapore Ne prendo uno Due menta No non ce la faccio Prendere tutto No E allora mi fermo qua No però Il caffè No Ah non ho il ghiaccio Non è caffè ghiaccio No 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 la menta l'ho presa la menta Ah la prendi Si si E poi questa la devo spendere Per venire a prendermi il ghiaccio qua Ma la menta non te la sei presa Si ce l'ho in mano Ah non la vedo Scusami Quindi in una metto Ghiaccio Menta E Latte Ah 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 Questo Lasciamolo lì un attimo da parte Perché poi ci voglio mettere sto caffè E qua mettiamo Vapore Latte E menta Voi la sentite? La tensione Il disastro Il tint No no La confusione La bestemmie Allora Eccole qua Si sentono anche Due ordini pronti Due ordini consegnati Eh 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 La dosca Disastro Ah ah aiuto Vai queste scendono Nessuno era speciale Nessuno era speciale No? Figurte Se no col cavolo Che facevo Caffè E ne prendo due E poi alla prossima Piangiamo Va bene così Vapore Per quanto Due caffè con panna Eh che potrebbe essere Che potrebbero essere facili Da fare in combo Due caffè con panna La panna è finita Non possiamo dire che la panna è finita E gli facciamo il caffè normale Allora Vanno quindi Tre caffè Due latti E due vapori E' facile teoricamente No? Allora C'è Vapore E caffè Caffè caramello Ghiaccio E poi ho un Caramello Non ho una fretta Non arrivo a farlo Allora Vero a prendermi Del Bellissimo Non mi tengo la fretta Ma va bene così Tanto non mi cambia niente Questo No dai Metti un tuo mino Tipo qua No Ma adesso qua Dai così prendo più caffè Ah questo l'ho avuto Mi manca una fretta Non arrivo Allora Quindi questo caffè Ehm Si Vapore Allora caffè e vapore qua Caffè Ghiaccio E caramello qua Ordine pronto E ordine pronto No io faccio schifo Io ne perdo due Eh ma adesso Riesco almeno una A prenderla Un vapore Due latte Un solo caffè Prendo Io per avere due caffè Devo venire qua Ma in quel modo Non prendo Nei due latte Nei due vapore No Ne hai prese due Tu però Quando Adesso no Adesso io ne ho fatti due Brava Vuoi un applauso No 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 Tutt'altro ma Uno due Tre Perché io non ho la fretta Non posso andare di corsa Quindi posso prendere Due latte Posso prendere Due caffè Ma non Il vapore E a me serve Un caffè Faccio questa Va bing Lo prendo Facile Ma non riesco A fare almeno Due caffè No Due caffè Un latte Un vapore No Vale E non finisce la partita Non ritrovare Gli ordini Non ritrovare il caffè Con la palla La palla Devo portare i bimbi A fare lo spot Mi impattisce la maionese Devono fare la meretta Mi faccio il mio caffè con palla Madre denaturata Come l'alcol Snaturata volevo dire Denaturata Posso muovere i tuoi No Niente Non riesco a fare Uno sbaragnao Dovrei contenere Lanne Riuscendo a fare Qualcosa Almeno Neanche questo Riesco a fare Un espresso Del Un Un ghiaccio Un vapore Due caffè Non posso fermarmi Dove sei tu Non posso Posso andare in diagonale Aspetta Allora Mi serve Aspetta Faccio così Un ghiaccio Due caffè E un vapore Lo riuscivo a fare Perché posso In diagonale Ok Stai tranquillo Tu gli hai bevuti Il caffè Non gli hai consegnati Sembra Vieni avanti Crettino Lino Banfi Caffè con humor Sono gargiulo E se sbaglia la comanda Beh Quindi Due pronti Perlomeno Faccio un punto in più Pronto questo Pronto questo E Alla fine della partita Contano i punti In caso di parità Chi ha completato Più ordini In totale Quindi senza contare Quelli spesi In caso di ulteriore parità Chi ha avanzato Eventualmente più fretta Quindi consegno Un caffè freddo Al caramello Che sarà molto freddo Tanto il tempo Che era l'impreparazione E un caffè espresso Queste scendono Sono due punti negativi O cinque recensioni negative Quindi Dichiaro Basta Non ce la faccio più Chiudiamo 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 il bar Tutti gli altri giocatori Fanno ancora Il loro ultimo turno E Conclusa la partita Ok Allora Cuore Fatica Due vapori Caramello non mi serve Il latte Troppo freddo Troppo freddo Allora Vai Io vengo a prendere Del latte Vai Io ti ho detto il passo Tanto ora sono tranquillo Io ho chiuso Alziamo sulle sedie Del ghiaccio Passiamo la serrante Non l'apriremo mai più Due caffè E devi usare una fretta Uso una fretta Per Perché non potete fermarvi Dove è già occupato Prendere tipo Dell'acqua Che ne prende due Che ne prendi due Metti tutto nelle tassine E vediamo Allora Comunque il turno si conclude Fino alle carte che scendono Questo perché eventualmente Prendete delle recensioni negative Perdete dei punti Acqua e caffè Qualcosa che vuole acqua e caffè Ma che schifo Che ho fatto ragazzi Non è del vapore Perché dell'acqua Perché l'acqua Non faccio niente Perché Ma anch'io Ne ho cinque negative E tu ne hai fatta una in più Cioè ne hai fatte molte di più Non so cosa dirti Vale Niente Faccio solo una Ok Faccio il frullato al cioccolato Dolce un po' salato Non si sta più Cioè vabbè sì Pesco un'altra carta Però Due e quattro Il gioco è finito Quindi Questo è avanzato Due negative Scende tutto Ne arrivano di nuove Ma quello ormai Non cambia più Dovevo prendere Il vapore Questo perché La partita è finita Qui E andiamo a contare I punti Ogni bonus Ogni miglioria Che abbiamo sbloccato Ci fornisce due punti Quindi due Quattro Sei Due Quattro Sei Siamo pari Ogni recensione positiva Ci dà un punto Ogni recensione negativa Ci toglie Un punto Quindi Cinque Tolgo cinque Esatto Io anche E rimango con ben due E io con ben tre Dove punti a otto Vinco La partita Di Bosma mia Che ansia Che ansia Signori 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 Un bel rush Con questo coffee rush Se proprio volete Farvi venire Degli Infari Aggiungete una clessidra Secondo me Vi date 30 secondi Per prendere gli ingredienti Tipo Il pressure test E se non lo fai Ti aggiungi Ti aggiungi carte I barbieri Cioè Master chef Non è niente Confronto a A questo coffee rush Signori e signori Noi al solito Vi ricordiamo Che se il gioco vi interessa Qua sotto è in descrizione Vi lasciamo un link Dove poterlo acquistare Vi ringraziamo Per essere stati con noi Vi diamo appuntamento I nostri prossimi video Vi ricordiamo Che qui a casa Giullari Si gioca per giocare I Giullari vi salutano E che il gioco sia con voi Ciao Ciao